Molto semplicemente, queste colonne che vedete io ho trovato che sono del del terzo secolo, semplicemente un'ipotesi su Wiki è che quando è arrivato Massimiano ha fatto costruire anche delle terme e queste sono prese da delle terme che c'erano a Milano però non le hanno fatte qua le terme, le hanno prese e le hanno spostate, le hanno spostate le colonne per abbellire un po' la zona, adesso vedete una piazza, ma fino a... mi ricordo, c'erano tutte le case una volta e lui dice che sono state prese dal Colosseo no, ma può anche essere, però io non sono in grado di dire qual è la vera però, se ha un disegnamento dell'edificio, che cos'è? questa era una colonne delle terme e questa facciata, questo arco? questo arco non lo so questo arco, così a occhio, non mi sembra collegato alle colonne lo stile è un po' diverso da qualche parte c'è scritto che c'è una colonna nascosta però non ho mi sembra un modo per vendere il libro che ha scritto sta roba e basta andiamo in tempo